Allora, vi volevo semplicemente, anzi non vi volevo, e questa è un'autocelebrazione, non di me stesso medesimo, qui sotto scritto presente, tra l'altro non so nemmeno come sto facendo le riprese perché vabbè, comunque chi se ne frega di ste cose. Ho ritrovato, grazie a un carissimo amico a cui avevo donato questa cosa anni e anni fa, si parla del 2005-2006, anzi forse fammi pensare, Pasquetta 2006, però la cassettina l'avevo fatta tipo l'estate prima, quindi parliamo 2005-2006, appunto l'ho detto, musicassetta, voi o giovani, musicassetta, musicassetta, cassettina, questa è precisamente, non lo dovrebbe essere una Sony tra l'altro, comunque, voi o giovani che siete cresciuti, che a malapena sapete cos'è un CD, penso non sappiate, o se lo sapete è come una cosa mistica il lettore CD portatile proprio, la musicassetta, antenato dell'MP3, voi o giovani che siete cresciuti con l'MP3, non potete capire che figata in mane era avere la musicassetta dentro il Walkman, che no, non è una tipologia di MP3 della Sony, ma è il Walkman, sì, della Sony, però il lettore musicassetta, il mangia cassetta, come si diceva una volta. Non potete capire quante cacchio di volte in estate a Tortoreto, Alba Adriatica, Giulianova andavo io con la mia bicicletta alle 3 di pomeriggio sotto il sole con un cuffio di Walkman e la musicassetta, questa ma anche c'era, avevo fatto anche con Red Ocili Peppers, Nirvana, Litfiba e cacchi vari, non si sa quante cose, uno spettacolo, non si ritrovano più cose del genere, sapete che vi dico, ora sentiamo pure se e come si sente, prima l'abbiamo ascoltato in macchina, ma lo stereo dell'appunto, anche quella macchina mitologica oramai è andato un po' a farsi benedire, quindi era ancora più mistica la cosa, basta dirvi che praticamente i bassi dei, perché questa è la musicassetta con Iron Maiden, tra l'altro, non so se si legge, si legge, si dovrebbe leggere, quindi Steve Harris, il basso di Steve Harris si dovrebbe sentire, invece nella punto, nella Trattor Point te li devi immaginare ora come è ora, ma andiamo a sentire, se si sente qualche cosa, tra l'altro, dai, ah, è partita una cassa soltanto, minchia si sente bene, si sente bene, ecco qua no! 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 figata 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 una figata della madonna voi potrete dire anche giustamente che costui è un povero pazzo che sta facendo il video solo per unicamente per una cassetta per questa musicassetta la musicassetta ma cioè una volta per gli mp3 che ora si si sentono belli più o meno precisi amo amo e todio croce delizio per me gli mp3 ma va bene insomma ma la figata che quando andavi in giro con il walkman e walkman iniziava a esaurire le batterie sentivi sempre più sempre peggio però è sempre più rallentato era una figata un pezzo punk ti poteva diventare un pezzo doom metal così di punto in bianco quasi figata 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 grazie a tutti